Sono il dottor Ambrogio Castelli, mi sono laureato 30 anni fa e ho iniziato all'età di 20 anni a seguire il mio primo maestro, il professor Valle Michele Penegrini di Firenze, dal quale io ho imparato letteralmente tutto. Ho iniziato come ferrista e poi assistente, venivo dagli esami a Milano e mi sono laureato per la sua statataia di Milano. Poi ho preso la specialità in Torino e sono partito per l'estero, l'ho fatto 5 anni in Argentina, presso il professor Giuri, che mi ha abituato ancora di più alla chirurgia plastica estetica e ricostruttiva. Posso dire che ho un'esperienza 30 annale sia come chirurgo plastico che come ottorino ingoiatra e ho scelto la specialità in Torino per l'amore che ho nei confronti della rinoplastica perché lo considero l'intervento principe nel campo della chirurgia plastica estetica. Ho avuto esperienza in Argentina, a Buenos Aires, a New York, dove ho seguito gli ultimi corsi di Jack Henderson per quanto riguarda l'inoplastica e lifting facciale, blefaroplastica, mentoplastica, zigomi, da cui ho tratto una grandissima esperienza e posso considerarmi un buon artigiano che sa fare il suo mestiere. Quando si dice il buon chirurgo, il buon chirurgo è quello che fa meno errori possibili, non è quello che fa l'intervento magico, ma è quello che dà una soddisfazione alla paziente la quale sapendo preoperatoriamente quello che è il risultato che potrà ottenere e sarà sempre contenta perché il dialogo con la paziente prima dell'intervento è molto importante, si sta anche un'ora a parlare assieme perché esattamente deve capire quale possa essere il risultato che può ottenere. Non c'è niente di magico nella chirurgia plastica estetica, anzi, siccome viene definita chirurgia dell'anima, io l'ho sempre scritto nei miei articoli, la chirurgia dell'anima è molto importante perché il chirurgo plastico non solo deve attuare una tecnica che abbia un rispetto dell'anatomia chirurgica, ma deve arrivare a creare un risultato che sia consono con la richiesta della paziente, l'anima della paziente, la sua psicologia.